Il mio rapporto con la moda è forse un po' altalenante, ne subisco sicuramente il fascino come un po' tutti d'altronde, ma come dire, la vivo molto bene sugli altri e probabilmente meno su me stessa, ma si rimane comunque sempre affascinati. Con le donne in senso generale ho sicuramente un buon rapporto, non mi reputo una persona competitiva, nessun lavoro né fuori nella vita. Trovo che ci sia sempre un grande scambio nel diverso femminile, perché fondamentalmente siamo molto empatiche, quindi questa nostra capacità di empatizzare poi ci rende aperte, disponibile. Gli incontri femminili sul lavoro sono sempre degli incontri piacevoli. Gli incontri el processo Qui e la